Noi crediamo che esista un solo modo per fare la birra. Crediamo che le si debba dedicare amore, tempo, creatività. Che le si debba donare qualità ad ogni passaggio. Ecco perché la impreziosiamo con 3, 4, 5, 6, 7 luppoli. Crediamo nel rispetto della tradizione, ma senza smettere di cercare e di sperimentare. Ecco perché la nostra birra segue le stagioni della natura e propone sfumature sorprendenti. Ecco perché è una birra per bere bene, ma anche per mangiare bene. Però guai a tradire l'essenza, non chiedeteci cose strane. Non chiedeteci di mescolarla, con il limone per esempio. E non azzardatevi a farlo nemmeno voi. Gustatevela invece per scoprire una birra che non si dimentica. Che rende onore all'amicizia e al tempo trascorso insieme. La birra che si consiglia agli altri e che si cerca per sempre. E non è un caso se il birrificio Angelo Poretti è stata scelta per diventare la birra ufficiale del Padiglione Italia Expo 2015. Brindiamo allora questo grande successo e godiamocelo. L'Expo 2015. Siamo tutti noi. Siamo tutti noi che festeggiamo, ma senza accontentarci facilmente, perché ci piace guardare oltre, al futuro e ai nostri prossimi traguardi. Siamo tutti noi che già a partire dal prossimo anno abbiamo progetti molto ambiziosi. Raddoppiare la nostra quota di mercato, triplicare le nostre famiglie acquirenti, essere presenti in un punto vendita su due nel canale Oreca e avere tutte le nostre referenze birrificio Angelo Poretti 3, 4, 5, 6, 7 lupoli sugli scaffali della GDO. E soprattutto, siamo tutti noi che insieme a tutti voi possiamo realizzare il sogno più grande, superare presto il milione di ettolitri. Per poter credere fino in fondo a tutto questo, abbiamo bisogno di credere nella nostra forza più grande. Voi Birrificio Angelo Poretti Il meglio deve ancora venire.